allora ragazzi abbiamo finito questi primi cinque semplicemente vi faccio vedere tutti insieme il procedimento è uguale per i video che avete visto precedente quindi i due video dedicati proprio alla costruzione in questo caso di un catenaccio però comunque voi potete utilizzare qualsiasi cosa voi immaginate che questo tipo di scultura potete fare con qualsiasi cosa che volete voi per esempio prendete dei manichini e quindi voi immaginate invece di ritrovare pieni di pesciolini come abbiamo fatto noi stile aquarium immaginate di mettere le lattine di coca cola oppure un bagaglio immaginate invece dell'acquario ma di mettere una delle lattine di coca cola quindi diciamo che il sistema in questo caso qui è lo stesso però comunque vi voglio fare le mie annotazioni perché sono molto importanti per evitare gli errori perché i chili di resina che comunque andrete a utilizzare lo stesso sono molti perché comunque anche se il materiale all'interno occupa un determinato spazio comunque una lattina e 5 litri quindi 5 chili voi immaginate che all'interno andate andate a mettere perlomeno come nel caso delle lattine di coca cola che voi vedete così pieno no così pieno quello della coca cola vedere così pieno comunque all'incirca poi dentro sono andati tre chili e mezzo quindi si risparmia sul fatto che tanta resina non entra in cinque chili quindi cinque litri che sono molti e non è che non sono però voi immaginate che quando andate a mettere il materiale all'interno comunque la resina la dovete mettere quindi sono tre quattro chili di resina e quindi comunque dovete fare attenzione allora quello che dovete fare attenzione è principalmente la latta perché in commercio esistono latte che sono differenti non lo so se l'ho messo qua no l'ho tolta in commercio esistono latte che sono differenti quelle più dure quelle più rigide noi normalmente abbiamo utilizzato queste qui che sono le latte dove c'è l'acqua che serve per innaffiare le piante oppure l'acqua che in questo caso qua che serve per il ferro da stilo quindi costano molto poco però comunque dovete rinforzare questa parte qui questa 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 scusate ma faccio vedere con i piedi questi lati dovete rinforzarli mettendo del legno perché tendono con il peso all'interno della resina tendono a dilatarsi e anche per il fatto che la resina tende a riscaldarsi e quindi automaticamente potrebbe portare una dilatazione come per esempio in questo caso quindi diciamo che dovete fare un po attenzione qua per esempio la dilatazione me l'ha importata solo qui però il resto è andato bene qui la stessa cosa la coca cola è andato il migliore di tutto perché ho utilizzato una di quelle latte che sono più rigide e quindi in automatico questo è un fatto molto importante che dovete fare in modo che i laterali non so potete mettere del legno potete mettere delle cose che per evitare che la resina riscaldando si allarga la plastica perché poi in fin dei conti è plastica in questo caso qua ho utilizzato una resina che si dice non si riscalda cioè non si riscalda si riscalda lo stesso normalmente dovrebbe indurirsi nell'arco di una settimana però comunque dipende sempre dalle quantità che voi mettete però in questo caso c'è il fatto che ho fatto un'unica colatura quindi quello che voi vedete qui sono state fatte uniche colature quindi in automatico la resina anche te quelle resine che dura molto più tempo e che potete fare le grandi colature comunque alla fine anche si riscalda e quindi la plastica che voi andate a utilizzare tende tende praticamente a modellarsi quindi dovete fare attenzione su questa cosa qui però comunque il fatto è che vengono delle cose che sono molto molto simpatiche che io consiglierei a tutti quanti voi che avete negozi che potete creare qualcosa di molto simpatico per i vostri negozi aiutando anche la natura allora errore errore principale ve l'ho messo qui davanti allora questo qua doveva venire una bomba spaziale però quando io ho messo siccome come vi ho detto faccio un'unica colatura quando io ho messo questo attaccato questo con della della resina solida e questa parte dove sta attaccata si vedeva e non era molto bella e diciamo avevo ero praticamente arrivato al limite dove la resina poi non può più coprire quindi che cosa ho fatto ho avuto l'idea di inserire il colore della resina quindi vari tipi di colore a gocce su gocce per il mio scopo era quello di coprire solo questa parte qui questa parte qui ma invece la reazione è stata che il colore come vedete si è diffuso un po da tutte le parti diciamo che mi ha creato questa cosa che diciamo si vede non si vede è interessante perché è interessante lo stesso però il risultato che io volevo non era questo perché doveva essere bello trasparente come questi qui e quindi poi vedevate i pastelli i pennelli tutti amatassati ed era era molto 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 più spettacolare comunque lo rifaremo e non rifaremo lo stesso errore quindi un errore qui è stato quello della pittura per la resina mi raccomando che nonostante che io non ho miscelato perché io non ho miscelato messo solo le gocce praticamente si è miscelata da sola quindi tutto il colore durante la fase del riscaldamento della resina ha praticamente colorato tutta la resina era un effetto che io non volevo però comunque non volevo fare questo però comunque arrivato così allora per quanto riguarda questo è stato più complicato perché ho messo tutte le lattine come vedete schiacciate in questa in questa scultura se ne sono andate 140 lattine però di quelle schiacciate con la macchina che noi siamo andati a prendere in mezzo alla strada 140 ragazzi ne sono entrate in questa in questa vedete che disastro ecologico immaginate tutte le strade immaginate ogni giorno tutta questa roba che sta in mezzo alla strada quindi questa roba non sarà più in mezzo alla strada ma sarà un'opera d'arte perciò vi dico che con un minimo sforzo riusciamo a creare un mondo migliore anche delle cose belle per la casa e le lattine di coca cola se ne sono andate 50 all'incirca schiacciate però nuove ma schiacciate giusto di così le altre invece sono proprio le schiacciate delle macchine quelle che sono diventate proprio delle sortilette ma la poi per quando riguarda le chiavi ho fatto solo quella con quelle due chiave lì che non mi piacevano tante quindi ho continuato a creare con queste chiavi qui allora ragazzi di queste sculture ne faremo tante altre non solo di catenarci ma anche altre cose con tutte le lattine vi voglio far vedere quello che io ho ragazzi queste sono tutte cose che ho preso dalla strada 1 2 3 4 5 6 non so se vedete queste sono tutte cose che ho preso qui nella strada cioè qua sono strapieni i cartoni questi qua chiusi sono totalmente strapieni quindi è un qualcosa di veramente molto grave quindi faremo faremo veramente tante faremo veramente tante sculture con questo materiale principalmente per salvare il pianeta quindi uno sforzo che fate magari ognuno di voi verrà giustamente ci sarà anche un guadagno su queste cose qui quindi potete fare potete creare quello che volete voi ma allora io vi ho fatto vedere tutto che avevo promesso di fare un unico video perché il sistema era inutile che facevo tutti i video di tutte le cose perché il sistema è praticamente è stato lo stessissimo quindi basta vedere il video numero mi sembra il numero 3 il numero 4 non lo so non me lo ricordo perché i primi video sono proprio dedicati a quello che noi siamo andati a prendere in mezzo alla strada e quindi poi ci sta quindi la fase della costruzione buon pomeriggio a tutti i ragazzi spero che queste queste opere vi danno la voglia a voi di fare cose differenti e non è che dovete fare le stesse cose però cose che possono praticamente salvare il nostro pianeta se non lo sappiamo noi non lo salva nessuno ve lo garantisco a cento per cento queste piccole stronzate che voi vedete sono per il pianeta veramente una grande cosa quindi non buttate niente quando potete fare queste cose qua fatele con tutto il vostro amore proprio per il pianeta poi se ci sta da guadagnare qualcosa di soldi e ragazzi l'artista è così gli artisti rischiano essere un artista si rischia io investo caccio i soldi però non guadagno niente poi arriverà un giorno che guadagno troppo è così magari tu lo fai e vendi direttamente forse veramente una grandissima cosa però purtroppo non è così questo lo voglio dire a tutte le persone che magari hanno voglia di essere anche loro di fare uscire il loro artista che che è dentro di loro sappiate che non è assolutamente una cosa facile e anche ci sta anche il fatto che io le gallerie d'arte di parigi ma questi ci hanno sempre le stesse cose sono anni e anni e anni che ci hanno sempre le stesse cose in verino ma quando vendono boh ma la ciao ragazzi ciao ciao a tutti e alla prossima